Perché questo film? Mi sembra che il tema omosessuale nel cinema arabo, nel cinema dei paesi musulmani, va sempre trattato come un problema drammatico. Io ho voluto fare questo, fare un film in cui l'homossessualità non sia un dramma, ma un fatto abbastanza diverso, insomma, l'homossessualità, perché esiste in tutte le società, in cui si vuole dire, e insomma, potremmo fare un film per una dedramatizzazione. Dramatizzazione. Io vorrei, prima di queste domande, rendere l'ommage a Claudia, che ha accettato di fare il film, che ha accettato di fare il film, Claudia ha dato la possibilità al film di existere. Perché se non fosse stato qua, Claudia, non avremmo, non avremmo, non avremmo, non avremmo più fornire il film di Lucia. Probabilmente saremmo stato fietato. Sì, il film non si poteva fare. No, non si poteva fare. Tre giorni prima dell'inizio del tornare, non avevamo l'autorizzazione. Quindi con l'arrivo di Claudia in Tunisia, che le cose si sono... Sono collocati, perché ovviamente, siccome io sono nato in Tunisia, allora ha detto a me, se c'è qui l'audio, ti deve fare. Era abbastanza difficile per loro vietare un film con Claudia cantinale, mentre un film senza Claudia cantinale mi fa andare appietato abbastanza facile. Però non c'è stato neanche un giornalista sul set in Tunisia. Non c'è stato un film di Lucia. Non c'è stato un film di Lucia. Grazie!